Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia. Questa mattina i carabinieri della stazione di Castellaneta hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un 25enne di origine romena, residente nel comune Ionico, presunto responsabile di maltrattamenti a danno della compagna e del figlio minorenne. Le indagini, avviate in seguito a formale denuncia presentata dalla donna lo scorso ottobre, hanno consentito agli investigatori di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 25enne. In particolare, negli ultimi tre anni avrebbe aggredito e malmenato in più occasioni il figlio minorenne e la compagna, nei confronti della quale si sarebbe accanito in maniera particolarmente brutale, colpendola anche con pugni e causandole ematomi, privandola inoltre dei documenti. Un comportamento vessatorio che avrebbe ridotto la donna in uno stato di totale prostrazione psicologica tale da vivere in continua ansia e terrore per la propria columità e a richiedere ospitalità in un centro antiviolenza. Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eventuale responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza. L'eventuale responsabilità dell'eventuale